Salve a tutti ragazzi, sono LordKane e vi do il benvenuto a questo nuovo filmato in cui vediamo questo piccolo database di un giocatore che mi ha passato le sue mani cash ormai dieci giorni fa, ma il filmato è più diretto a come impostare una review per un amico che gioca da poco, che ci manda qualche mano ed è richiesto da parte nostra avere un'idea di come si usa il demanager e magari il supporto di un software come Equilab, quindi un software gratuito e piuttosto intuitivo. Allora in queste mani che mi ha passato c'è qualche problema a mio avviso, sono mani giocate su poca stars perché vedo un grafico molto strano, un preflop raise maggiore del WPAP, ma non ci interessa un granché l'idea delle stats anche perché è importante far capire al nostro amico che tanto minore è la dimensione del database, quindi il numero di mani, tanto meno interessanti saranno le statistiche per non dire 0, il limite no, per mani che tendono a 1 le stats tendono a 0, che è già il valore delle statistiche. Vedremo semplicemente diverse mani, cerchiamo di prendere sempre maggiori informazioni, quello che io vorrei che voi diceste a un amico per cercare di stimolare il lato che a voi interessa, che lui stimoli, così da potersi migliorare sempre di più. Allora prima cosa che vediamo qui è che non siamo seduti con lo stack intero, quindi magico il numero 69, praise the 69, ma è importante che soprattutto se abbiamo margine, ok, se abbiamo margine sui nostri avversari, noi si giochi sempre con il massimo stack consentito, che vada a coprire lo stack più piccolo al tavolo, quindi se tutti giocassero con 40 bui, andrebbe bene giocare con 50 bui, ma che comunque giochi sempre 100x con l'outer buy sempre massimo, perché se siamo più forti vinceremo di più, quindi più soldi abbiamo, più soldi vinciamo, non fa una piega. È anche importante perché noi vogliamo che il nostro amico diventi sempre più forte nello spot di gioco deep stack, che è il normale tipo di gioco con lo stack intero. Prima cosa, bro, carica sempre fino a giocare 100 bui, è importantissimo. Cosa succede qua? Limp, limp, call, chiamiamo in questo spot, che non è terribile come idea, ma è chiaro che anche solo il fatto di chiamare ha un dv decisamente positiva, se mettiamo due bui su un po' di 8 bui e mezzo, ok, siamo tipo 1 a 4, e anche solo se andiamo in set value, ok, è importante perché dovete sempre usare i software di base, comunque anche semplicemente se andiamo per vedere se settiamo o meno, il set value è sicuramente rispettato, basta vincere sufficientemente per migliorare oltre la 1 contro 7, hanno le possibilità di prendere veramente un set, quindi è sicuramente V. Vogliamo pensare di tribettare questa mano? Non sarebbe terribile, ma abbiamo un po' un giocatore antipatico contro cui puoi giocare, giocheremo a OP. È comprensibile, soprattutto per un giocatore all'inizio, tenere queste mani sempre con queste dinamiche, fa semplicemente soldi. È chiaro che il valore di uno squeeze in questo caso è interessante perché Polly Watt tribetta poco, ma linea di massima tribetta comunque tutte le mani forti, quindi attenzione che nel range di call non ha tante mani e può avere anche degli 8-8, 9-9, KQ e simili che hanno valore su di noi, e lui ha anche posizione, certo è che raramente ci saremo scontrando contro mani con cui il nostro avversario ha intenzione di giocarsi lo stack preflop, mentre l'altro giocatore ha un range talmente vasto, un'apertura molto vasta, che 7-7 è in valore. Comunque va bene, l'idea è di chiamare. Chiama pure l'altro, ittiamo per i massimi. Ora, normalmente vogliamo dire al nostro amico che qui non si donk betta mai, che è la nostra normale linea di gioco, non uscire nel donk betta quando stiamo giocando uno stile, chiamiamolo risolto, una linea verso il GTO. Chiaro che qui decisamente non siamo in uno spot a giocare uno stile risolto, anche perché abbiamo un range di call in questa dinamica. Se stiamo OP su un board super coordinato, ci sono i motivi per bettare. Non dovremmo bettare con tanto maggiore la sicurezza che qualcun altro punterà. Se per esempio Killer Fox fosse il giocatore più agro del mondo e sappiamo che betta sempre, è chiaro che è uno spot meraviglioso, noi cerchiamolo in betta, qualcun altro magari chiama ed ecco che noi possiamo risale. Qui ci sono diversi motivi per uscire in bette. Il giocatore da bottone è un meganitti, non betterà mai a meno che non abbia l'asso, che sono comunque mani che ci pagano. L'altro giocatore normalmente betterebbe spesso, un profilo un po' aggressivo, ma siamo contro tra giocatori. Il board è molto coordinato, la mano nostra è sempre la migliore. L'unico che potrebbe avere a suo asso è Rollie P, che comunque apre metà del mazzo, quindi ce l'ha una volta su 200 forse, sì, va bene, circa. Quindi l'idea di don bettare qual è buona, potremmo uscire anche con una size bella cicciosa attorno ai 10 bui, anche perché così potremmo eventualmente metterlo lì in Killer Fox sul tar, se lo dovesse chiamare, comunque valore e protezione. Cerchiamo, minibet con raise, molto bene per noi, il pot è a 16, dovremmo come idea scegliere una size di base, non vogliamo andare in overbet, quindi per capire il size, prima chiamiamo il pot è attorno ai 20 bui e poi rilanciamo, quindi 23 bui qua, è una cifra buona da mettere che mette i nostri avversari attorno al 33% di potenza, vale a dire che partecipano a un terzo del piatto, quindi 33-35%, comunque qua noi ci diamo di chiamare, questo è un errore molto grave, perché i nostri avversari qua hanno molte possibilità di chiudere molti punti, praticamente, per far capire al vostro amico, stiamo regalando dell'equity, cioè se il nostro avversario qua, Killer Fox, proviamo a vedere, sfruttando anche Equilab, per capire l'oppo è un po' un matto, gioca a TC, lui può tranquillamente avere una mano, la segniamo proprio specifica, una mano come K-Fiori, ci sta, K-Fiori può averlo, con un K-8 Offsuit, una mano di questo tipo, K-Fiori 8X, su questo board che è 6 picche, 7 fiori, 7 fiori e asso fiori, la nostra mano che è decisamente molto forte, quindi è 7 quadri, 7 cuori, la nostra mano è molto forte, è al 90% di vittoria, senz'altro contro una mano che ha 3 quinti scala runner-runner, 3 quinti colori runner-runner, ma il nostro avversario partecipa al 10%, quindi se vediamo 9% di partecipazione dell'oppo più 9% di equity, di base il nostro oppo non perde soldi, dobbiamo anche pensare che questa volta su 10 in cui ci scoppia, noi lo pagheremo parecchio, perché mettiamo caso che Tan, caschi 9, addirittura di Fiori ma non ha importanza come casca 9, lui fa veramente la sua scala e noi lo paghiamo, perché se casca 9 poi casca 5 o casca 9 casca 10, difficilmente riusciamo a salvarci, quindi attenzione che il far fare soldi ai nostri avversari vuol dire non farne noi, se noi avessimo qua messo una size più grande, il nostro avversario avrebbe speso più soldi, quindi avrebbe avuto odds peggiori, quindi confrontando le pot odds, quello offerte da piatto, con la nostra equity capiamo che il nostro avversario alla lunga ha un valore atteso minore, stiamo sfiorando tanti concetti senza approfondirli troppo, ma il vostro amico ci suppone non sia molto schillato in questo momento, Tan comunque 3, dobbiamo sempre ragionare nell'ottica, far ragionare il nostro amico di range degli avversari, chi migliora qua? Migliorano molto gli avversari, perché su questo bordo una mano come 4 e 5 per esempio è una mano molto frequente, è possibilissimo che ci sia, quindi il 3 è una pessima uscita, ora il piatto è pure rimasto abbastanza piccolo, la situazione è complicata, se qua il piatto fosse molto grande, perché abbiamo resato e siamo contro un giocatore solo, è chiaro che possiamo comunque perdere contro scala, senz'altro, ma mettiamo caso di riuscire a mettere al 30% del piatto, il pot è 50 bui, noi mettiamo 50 bui, il nostro avversario mette 50 bui, comunque abbiamo i nostri 10 out, le volte che siamo dietro per pescare il nostro full, quindi comunque 20% delle volte andiamo a vincere noi la mano, quindi perdiamo solo il 10% di quei 50 bui quando andiamo a perdere, e ovviamente nel range avversario non c'è decisamente solo scala, solo il fatto che possa esserci degli ASX, dei 6-6 addirittura, poche combo, possono esserci dei draw ancora, manico 8-9, sono nere, 10-9 fiori eccetera, quindi mettiamo, check check, mega bet, va bene, qua siamo molto fortunati, perché il giocatore matto pazzerello, visto il profilo, può tranquillamente mandarci la vasca con un ASSO X, siamo tipo sempre buoni, ma ci è andata bene, cioè per fortuna, questa volta il nostro avversario le ha messe tutte, quindi chiamiamo senz'altro, da notare qua le odds per questo mattarello, mattarello perché insomma Killer Fox ha un nick fighissimo, comunque lui le metterà al 20%, quindi se ha veramente il suo draw, la sua bila, quello che è, non sta sostanzialmente perdendo un granché di soldi, visto che gli basta vincere una volta su 5 per essere nevi, ed è colpa nostra perché non abbiamo gestito bene il pot, comunque vediamo cosa girano i nostri oppi, ASSO BANANA, LEGIT, fa la sua magica doppia, ma non ci interessa niente, però avremmo preso soldi molto prima, e Killer Fox col suo incastro, tutto sommato, aveva comunque 4 out, che lo metteva all'8% sul tar. Comunque abbiamo ricostruito il thinking process da una mano così semplice, chi se ne frega delle stats, abbiamo visto come non tri-bettare per flop, vuol dire aver perso valore protezione, eravamo molto avanti a un giocatore come Rolli, e decisamente avanti a un giocatore che gioca ATC, una volta chiamato va bene il set value, va bene l'idea di non uscire in bet, perché è standard nel nostro profilo, ma su un buon coordinato multi-way va bene anche uscire in donk bet, se da una volta che c'è stata mini-bet raise, decisamente raiseare, perché abbiamo interesse nei nostri avversari, i nostri avversari mostrano un interesse nella mano, e noi possiamo sicuramente andare a prendere valore e protezione, ok? Da una singola mano di questo tipo, che ci abbiamo messo tipo 5 minuti ad analizzare, possiamo capire tante cose su quale può essere il leak, che è il difetto del giocatore che stiamo cercando di ottimizzare, migliorare, il cui stile non importa. Comunque apriamo per 3, può andare, va bene come size per i micro, sarebbe normale aprire una size un po' più piccola, 2,5 per, ma non è una cosa che super interessa adesso, al giocatore che stiamo analizzando, l'importante è che ne sia consapevole. C'è uno tribet di un giocatore che non tribetta mai, quindi siamo contro un range molto forte, ma va bene, il call, siamo IP, siamo suited, siamo raramente dominati, difficile che un giocatore così abbia asse 9, abbia asse 8 nei range, visto che è molto uniti, siamo IP, siamo deep, siamo 100 per, come stack effettivo, va bene la difesa, su questo board è un po' un disastro, nel senso che è un board che, contro un 6 di tribet, il suo range è molto forte, questa è una cosa che dovete far capire al vostro amico, perché se il nostro avversario ha circa un 5 di tribet, poi immagino che 5 è circa così, ma immagino che abbia la maggior parte delle carte alte, come tipo di player, e una situazione di questo tipo su questo board, vede il nostro avversario con tante mani forti, a tanti K, per esempio a tutti questi, a tanti K, all'asso, vabbè, 7 ne avrà, immagino pochi, a tutta la parte suited comunque forte, e comunque delle player piuttosto forti in mano, l'unica car mano, che completamente è messa a questo board, è a Q off, ok, che sono pochissime combo, ok, sia chiaro, e se lui ha 12 volte nulla, e, arrotondiamo di nuovo, ho sbagliato, l'ho messo dalla parte sbagliata, diciamo così che si fa prima, e se ha 12 volte nulla, e ha 100 combo in mano, 9 volte su 10 ha qualcosa, ok, l'idea che vogliamo capire, fosse uscito un altro board, per esempio invece di K65, un board 7, 5, 4, per intenderci, un board di carte basse, il nostro avversario, su 100 combo, avrebbe qualcosa, solo queste volte che abbiamo tolto, quindi più di metà delle volte, avrebbe carte alte, è diverso, no, iniziare a far capire al nostro hero, il nostro amico, un po' la differenza dei board, quindi initiamo il nostro incastro, il nostro opo beta, fa size normalissimo, un terzo pot fuori posizione, un profilo super nitty, super passivo, su range molto forte, e foldare qua, forse è un po' eccessivo, abbiamo comunque il nostro incastro, è vero che abbiamo 3 out in sostanza, è ultra passivo, quindi quasi sempre turn, ce la regala, se veramente ha quelle poche combo, che non migliora, comunque è che è raro, che abbia mani come 7,7, quindi un fold qua, esploitativo, lo comprendo, comunque difendiamo, turn facciamo veramente scala, riseremo veramente forte, quando check abitiamo molto forte, perché veramente qua, oppo folderà a suo cu, e poco importa, ma la maggior parte delle volte, che ha due quadri, che ne ha spesso, guardate quante suite, due quadri, due cuori, una pair, o anche a mani come Cucu, Jack Jack 10, 10, difficilmente il nostro opo le sa foldare, quindi metteremo una bella minazza, attorno ai 30 bui, e se mettiamo 30, il post va attorno ai 100, il nostro opo a 50, anche una serie un po' più piccola, va bene, ma considerando il nostro avversario, direi che qui dovrebbe itare sempre, quindi c'è un po' piccola, perché il nostro opo le mette a 20%, e con i suoi draw, ha il 20% di possibilità di vittoria, nel senso, vede un river con i suoi 9 out, quindi attorno ai 20, alzerei un po' size, attorno ai 20, river 7, la mano resta molto solida per noi, e opo ha un sacco di pair, quindi lo metteremo bellamente lean, con un piatto un po' più grande, sarebbe stato meglio, tipo un po' da 80, e lui con 60 dietro, avrei preferito, comunque c'è, ah, beta è lui, quindi lo risiamo, non risiamo, abbiamo paura dell'unica combo che ci batte, che è tipo KK, non credo neanche abbia le coppie piccole, perché difficilmente un giocatore che ha 5 di tribet, sta tribetando 5, 5, 6, 6, quindi risiamo, e risiamo lunghi, qua opo gira al suo asso, abbiamo un missato valore in diversi spot, il call al flop è il limite, mi va bene, ma è importante comprendere il tipo di range, la beta è altra, il più grande, river sicuramente, risa, non possiamo sperare di avere per forza, KK, 5, 5, 6, 6, 7, 7, che sono le mani più forti, quindi risiamo, e cerchiamo di far capire al nostro amico che già da quello che abbiamo visto, lui tende a giocare un po' troppo le carte e un po' poco la situazione, per iniziare a fargli capire che nel poker, oltre a carte stack e posizione, giochiamo anche altre cose e permetterlo proprio nell'ottica di migliorare questo tipo di letture, giochiamo un po' le carte e un po' con il nostro sentimento, quindi siamo un po' tranquilli, un po' chiusi, vediamo cosa esce, non ci sbilanciamo, e creiamo degli effetti non solo nella mano che giochiamo, ma nel resto del range, cioè magari il resto del range che vogliamo risare, che andiamo a chiamare, foldare, quello che è, se noi giochiamo così queste mani, le altre mani nell'altra parte del range verranno sbilanciate, magari non avremo mai del blef oppure avremo troppo poco valore, come in questa situazione, scusate se ogni tanto bevo, ma ho bisogno di un po' di tagli a 10 di mattina e a 10 di lunedì, a quanto pare, quindi la mia linea inglese, a su 5 under the gun, può andare, ora non andrei a dire a Iro di togliere mani, perché pare un profilo abbastanza nitti, quindi non andiamo a toglierli, è chiaro che a su 5 su it, l'andard the gun non è il top delle mani che possiamo aprire, ma può andare, anche perché così Iro si mette nell'ottica di aprire un po' di mani e essere lui l'aggressore, chiamano due, profilo nitish, profilo fishy, leggermente aggressivo in qualche modo, neanche troppo, comunque ok, diamo il nostro gutshot, è un board interessante, in ez-up l'avremo abbettata sicuramente, perché è un board dove il nostro vantaggio di range è buono, noi qui, venendo da questa posizione, abbiamo tutte le coppie, praticamente, abbiamo un sacco di carte alte, asso Q, KQ, probabilmente anche Q jack suite, immagino da qua, tutte le pair, contro un giocatore si può abbettare, contro due mi va bene anche l'idea di cercare, qui abbiamo 3 quinti più 3 quinti, il giocatore è abbastanza aggro, vedo anche che ha dei check al turn, quando vediamo un giocatore un po' più passivo realizzeremo un po' più spesso l'equity, è un po' al limite, un conto è di sviluppare il range, metto io con vantaggio di range, un conto è iniziare a ceccollare le mani deboli, piuttosto che foldata, posso immaginare che in un contesto deep, soprattutto questa mano faccia più soldi, soprattutto se è passivo, quindi vedremo spesso due carte, può uscirci un asso, può uscire un 5-5, può uscire un 2, possono uscire due quadri, capisco l'idea di difendere, ma cerchiamo di capire cosa stiamo facendo, qua cecchiamo e qui difendiamo, e qui non c'è motivo di resare, che questo è un po' un problema, perché qui è uscito l'asso reso, ma in realtà contro questo giocatore che ha pure abbastanza passivo turn e che alza size, può avere tranquillamente un 5-2 suited, considerando come gioca, può avere qualche doppia, perché no, è uscito un asso, può avere asso 3, può avere asso 4, perché non dovrebbe averli, difficilmente avrà asso Q, anche se la stanza 0 di 3-bet, comunque difficilmente, il punto è che siamo avanti a molto range di questo tizio, siamo meno avanti quando lui betta pot e noi resiamo, in più a un board dove non ci sono grandi draw, cioè nel senso che può esserci una improbabile bilatera, un 5-6 che è pure bloccherato da noi, per il resto o siamo un chilometro avanti, perché il nostro avversario è una mano come Q10, anche se non credo, per come ha abitato Tarno, ma non abbiamo troppo motivo di resare, perché non è protezione della nostra equity, nel senso che qui il board non è molto pescoso, è valore contro poche carte, potrebbe avere tranquillamente un asso 2, per esempio, che magari dice, ho preso la coppia, adesso ho anche un castro di scala, è una coppia, l'ha reso, qua ha fatto il nostro avversario folda, ma qui non c'era bisogno, una volta che esco in check, su questo Tarno, che mi migliora, e comunque non migliora troppo l'avversario, check call, poi vedo che non ha una gran river bet, quindi check, se betta ancora river, un po' al limite della difesa, perché abbiamo molte mani, un po' più forti, in generale qui, comunque l'importante è il think and process che ci sta dietro, vediamo un altro paio di mani dove vinciamo, poi ci spostiamo dall'altra parte, tra le mani perse, vedo che, a parte quella situazione dove giocavamo a 60 bui, siamo abbastanza deep, questo è un buon segnale, l'imp sempre di Roby, check, floppiamo doppia, normalmente bettiamo, perché va bene, è vero che l'avversario è un 60-20, quindi mani come Qjack, Q9, Jack9, Asso Jack, Asso Q, probabilmente le avrebbero rilanciate, quindi meno draw di scala, però c'è un draw di colore, i 7-8, 7-9, mani qua in mezzo possono esserci, preferirei bettare, perché questa doppia rischia di perdere molte equiti sul Tarno, se poi l'op è un mega aggro, che l'imp ha sempre betta, sempre, cerchiamo to raise, to raise però, cosa facciamo? Prima mettiamo i soldi che ha messo, quindi andiamo a 6,5, poi mettiamo, quindi andiamo a bettare 8,5, come size normale, per dare attorno al 33% di potozzi, mettiamo 6, che è un po' bassa, ma va bene, usciamo bettando, mettiamo più forte, cerchiamo di non fare mai mezzo pot, facciamo capire al nostro amico, che la size mezzo, è praticamente sempre sbagliata, abituiamoci, perché quando il nostro amico, sarà un po' più capace, più esperto, probabilmente inizierà magari, a impostare i suoi size, i suoi range, probabilmente sceglierà, 35% pot, 65% pot, 120% pot, come size, su cui sviluppare, la sua linea di gioco, praticamente, mai farà mezzo, e per ora, non c'è una linea di gioco, convincente, che imposta i range, a mezzo pot, tranne in qualche dinamica, contro reg, che sta dando risultati, ma di certo non è questa, fate, mettete il nostro amico, nella condizione di giocare, secondo un criterio, con cui poi un giorno, se vuole, può uscirne, l'importante è che non vada, a mettere mille leak, nella sua, nei suoi range, River è molto buono, chiaramente, ma abbiamo, il pot è un po' al limite, chiaramente andremo all'in, e spero, andremo all'in, perché abbiamo il piatto giusto, il nostro Oppo, può avere tranquillamente, le Kx, chiaramente abbiamo migliorato, un sacco, non lo mettiamo all'in, gli lasciamo 6 bui, per carità, probabilmente, Oppo qua, K8, ma di nuovo, non abbiamo fatto, il miglior pot building, ora è chiaro che, il valore atteso, in questa situazione specifica, non cambiava tantissimo, cioè insomma, 6 VBB, sono tanti, in una mano specifica, per una mano specifica, ma se noi, in ognuno di questi spot, andiamo a fare 6 bui in più, Tutkur, si dice che, il nostro intero database, non aumenterà di tanto, il nostro EV totale, ma è importante mettersi, in queste condizioni, perché da mano fatta, come stiamo facendo, con il nostro amico, vogliamo andare a, migliorare, la sua intera comprensione, del gioco, qua apriamo a 3.3, può anche andare, anzi in realtà, mi va bene come size, soprattutto da queste posizioni, board, ragioniamoci, pessimo, per il nostro range, noi apriamo da under the gun, quindi qui, o abbiamo coppia, per capirci, 9.9, ok, asso asso, quello che è, o abbiamo magari un 7, potremmo avere un paio di 7, potremmo aprire anche 5.5, da questa posizione, ma per il resto, abbiamo una settantina, di combo di carte alte, i nostri avversari invece, 50.30, che chiama, 24.20, 13, che chiama, un sacco di coppiette, come tipo di giocatore, mi aspetto, possa girarci qualche mano in più, tipo, ho visto, qualche asso 5, suiter, perché sono cose che fanno, questi rag, soprattutto contro due giocatori, ma mi aspetto che, you know, possa avere tanta roba, può tranquillamente girarci scala, potrebbe girarci doppia, potrebbe avere 5.4, non possiamo escludere, che abbia 8.5 suited, visto che è comunque molto luso, l'altro giocatore ha, poche overcard, tante coppiette, noi siamo fuori posizione, su un pessimo board, se noi bettassimo qua, pensiamo al nostro intero range, staremo bettando, praticamente tutto, qua abbiamo due over, tre quinticolore, non è proprio tutto, 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 ma è l'unica mano più debole, che riesco a immaginare qua, da questa posizione, potrebbe essere, Jack a cuori, ok, per dire, c'è proprio nulla cosmico, ma non cambia molto, comunque, cecchiamo, va bene, ceccano tutti, i turn e 9, che è un disastro per i nostri range, cecchiamo, river k, c'è una bet di questo player, mi va bene il call, anche se mi aspetto proprio k jack, come bottom range qua, con un giocatore del genere, e non andrei mai a risare in questa dinamica, comunque, chiamiamo, ok, e qui, oppo gira k10, ok, eravamo circa da quelle parti, non c'è troppo motivo di risare in questo spot, non mi aspetto che, se Dan abbia, tante doppie, a parte magari 8-9, che probabilmente avrebbe bettato turn, e difficilmente ha k9, k8, perché ha col collato da small blind, ma non ha troppa importanza andare su letture molto, molto specifiche, allora, abbiamo visto le prime mani dove abbiamo vinto, andiamo a vedere qualche mano dove si perde, perché a noi non interessa tanto il vinto, il perso, interessa come possiamo giocare meglio il nostro range, il nostro gioco, e vediamo cosa accade qui, tattatata, fall limp, isoliamo 2.5 bui, più 1 per l'imper, è vero che abbiamo rilanciato 3.5, anche se il manager non vuole farcelo vedere, ma in queste dinamiche stiamo isolando, quindi rilanciamo sull'imper, e quando contiamo le size, facciamo la nostra size normale, più i soldi già impiegati, mi va bene come size, è una size normale per uno stake un po' più alto, probabilmente per questi stake, contro questi profili, c'è un 60.10, un 60.30, un 70.30, possiamo fare i size più grandi, qua anche uscire a 4 bui e mezzo, 5 bui va sicuramente bene, e fa sicuramente V, comunque infatti, chiamano solo tutti, giusto per capirci, board, molto buono per il nostro range, siamo tantissimo avanti, pochi draw, quindi principalmente dei cuori, qualche cuore, qualche 8x, qualche Q, Q10, magari Q9, qualcosa c'è, qualche coppia, raramente possiamo scontrarci contro un 3.3, che può essere in queste condizioni, 8.8 un po' meno, perché Wimax probabilmente l'avrebbe rilanciato, e non molti altri, quindi comunque siamo veramente messi bene, siamo, dove siamo? Siamo in P, c'è una bet di un giocatore comunque di profilo passivo, con bassa trivetta, cioè, bassa trivetta, voi qua vedete 20, no? Però è su 10 mani, è un 60.10 di media questo giocatore, quindi mi aspetto che mani come Asso e QQ le avrebbero rilanciate, può avere invece qualche Asso Q, raro, perché spesso le trivetterà, dei Q10, dei Q9, suited probabilmente, e Q8 off, la vedo improbabile, magari Q8 suited, comunque siamo molto avanti al suo range, ed è passivo, con un altro giocatore, qui, resare, lo preferisco, perché non ho il K di cuori, in una situazione con il K di cuori, e nel zap, magari va bene anche l'idea di collare, ma probabilmente, non è necessario per questi stake, mi va bene sicuramente resare, comunque qua, io decido di fare una size un po' piccola, ah, un po' piccola, perché non ha soldi dietro, questo me ne accorgo solo adesso, mi super raccomando, questo è un esempio dei quali, un esempio nei quali, non andiamo a ottimizzare il valore della nostra mano, perché siamo troppo corti per fare soldi, cioè il fatto di essere corti, non solo ci fa fare meno soldi quando siamo davanti, e saremo più spesso avanti, nel senso che vinciamo più spesso di quanto perdiamo, se no saremo giocatori perdenti, inoltre, in situazioni proprio di EV, no, inoltre, limita le nostre scelte, ok, perché se noi pensiamo in questa dinamica, non abbiamo un granché di scelte, nel senso avendo 30 bui, l'unica opzione è andare all in, ma se noi ci limitiamo le opzioni, ci diamo meno possibilità di dimostrare di essere giocatori forti, comunque è chiaro che qua andremo all in, e vabbè qua ho po' resa, mi preoccupo un po' la better race di questo giocatore, visto come la giocata è un profilo non troppo aggro, è effettivamente come lui giocherebbe in mani come 3-3, Q8 probabilmente suited, questo giocatore può avere any suited, quindi giocando questo VPP alto, quindi può girarci anche Q3, potrebbe arrivare a girarci 8-3 a picche, in questo contesto, ma la nostra mano va bene giocata così, con un coppo quasi rasso-asso, ci sta, ma dobbiamo pensare, è importante che il nostro hero, il nostro amico capisca, che se questo giocatore ha 70 VPP circa, cioè gioca a un range tipo questo, possiamo immaginarci quindi, praticamente tutte le suited in mano, immagino non tutte queste, probabilmente la maggior parte delle offsuit che fa scala, magari non questa, ma una cosa del genere, circa questo, e quindi lui ha circa 900 combo, normalmente con un 10 litri bet, ci aspettiamo che almeno le carte un po' più alte le rilanci, ma comunque su 800 combo, le possibilità che abbia a suo asso, non sono molte no, 800, 816, quindi è inutile stare a pensare, oh ma guarda il suo giro a suo asso, dobbiamo pensare, che range gioca così, e se anche un paio di volte, ci gira a suo asso, perché comunque, stesse volte le rilancerà comunque preflop, non sposta le vie della nostra linea, essendo così corti, comunque non abbiamo avuto possibilità di adattarci, di cambiare il nostro gioco, di approfittare l'inexploitativa, fate capire anche questo è il vostro amico, noi avremo un gioco circa standard, cioè quello che facciamo normalmente, soprattutto quando non abbiamo tantissime informazioni, e poi è un gioco esploitativo, che cambierà tanto più sono precise, le nostre informazioni interessanti, per avere un effettivo cambio, sui nostri size, sui nostri range, sulle nostre tendenze, questo è un tavolo comunque che va bene, cerchiamo di far capire anche a Iroh, che va bene, perché per questi stake, onestamente sono tutti tavoli buoni, soprattutto Stars, che non offre back raramente, a dei reg forti, soprattutto a questi stake, perché fai molta fatica a battere la rake, puoi avere quanto margine vuoi, puoi farcela, ma faresti un sacco di soldi in più altrove, perdonate il mio sorsetto di te, perdonate il sorsetto, non il fatto che io ne abbia fatto uno, comunque apertura, 3-bet standard, piccola, attenzione alle size, soprattutto contro un giocatore 20-10, quindi un profilo abbastanza ABC, è vero che è scritto 22-16, ma capitemi no, 20-15-5, insomma un profilo ABC, che apre da queste posizioni, e folda poco, perché ha un range piccolo, che difende spesso, cerchiamo di alzare size, normalmente noi usciremo a 4x fuori posizione, come size normale, poi dipende come costruiamo, possiamo anche alzare questa size, o cambiarla in base alla size d'apertura dell'avversario, qui andremo comunque almeno a 3,5x, che cerchiamo di andare oltre i 10 bui, cerchiamo di cliccare, non ha senso fare una size così piccola, perché Oppo ha mani di qualità, è vero che ci gioca fuori posizione, ma così non è che lui ci chiami più spesso, semplicemente facciamo meno soldi, e non abbiamo, abbiamo un solo fish, importante, che è You Know, da bottone, gli altri sono giocatori abbastanza sensati, è chiaro che vedere un 17-10-5, fa un po' strano dire a un giocatore sensato, ma è certo un giocatore che perde, ma non perde così tanto, no? Un giocatore come You Know, un giocatore che invece perde per abitudine, comunque chiama il nostro Oppo, settiamo per i massimi, mettiamo sicuramente, facciamo due, non c'è nessun motivo di fare due, questo è un board, dove abbiamo vantaggio di range, siamo contro il reg, mettiamo normalmente un terzo pot, mi raccomando, non abbiamo motivo di uscire, è chiaro che se fossimo in una situazione dove abbiamo motivo di uscire, possiamo per esempio, contro due giocatori, contro un fish, contro una situazione diversa da questa, metteremo meno spesso, quindi alzeremo size, mi andrebbe bene un 12-15 bui, in questo caso, assolutamente mai cambiare size, 35% pot, 6 bui, mi va sempre bene, se poi diciamo, ma Oppo qua, Apert, dalle prime ha chiamato, qui gira un sacco di mani, come per esempio 8-8, 10-10, che non sono tantissime, può girarci, è chiaro che è bloccherato, ma KQ, AK che non avrebbe forbettato, cosa possibile, sono poche combo, chiaramente, può avere tante pair, quindi Jack-Jack, QQ, anche ovviamente 10-10, 9-9, 8-8, che non folda mai, quindi asso Q, asso Jack è un incastro, questo giocatore folda 0, quindi ce ne difende tutte, iniziamo a dare valore al range dell'avversario, allora, su questo ball, contro questo range, queste tendenze, invece di uscire in linea normale, un terzo pot, tira una bella minazza, tanto qua, se Oppo ha so Jack, asso Q, quindi l'incastro, chiama praticamente any size, se ha una mano che ha completamente missato, non mi vengono in mente, come per un giocatore così, ma immaginiamo 4-4, potrebbe essere una mano che su questa size difende, quelle comunque folderebbero, any size non cambia niente, 9 è un po' un problema, perché chiude Q-Jack, che è un draw abbastanza plausibile, una bella al flop, adesso alziamo size, Oppo chiama, river e Jack che ha un problema, perché ha degli assi Q, ha dei KQ, ha dei Q-Jack, eppure è uscito cuori, non mi piace un granché, e può avere dei set, quindi se c'è che dobbiamo pensare, anche l'idea di voglio bettare, non credo che Oppo qua, sappia foldare un Jack-Jack, per intenderci, è che ha talmente volte, mani come Q-Jack, KQ e quadri, perché lui può tranquillamente, avere anche qualche asso a cuori, non tantissimi, perché a parte asso Q, forse asso 10, potrebbe avere asso 10 a cuori, non credo che vada oltre, non credo abbia asso 5 a cuori, per intenderci, anche se quelle 6 non è possibile, valutiamo l'idea di voglio bettare ancora, chiaramente sul Jack non è la migliore delle carte, però sarà una value to fold, Oppo qua, gira KQ, tutto in linea, ma noi abbiamo clamorosamente cannato le size, quindi diciamo al nostro amico, che tendiamo ad avere una strategia di default, che in questo caso è la macro, quindi una tribet, qui manca un giocatore al tavolo, ma insomma, cutoff contro MP, insomma la situazione normale, dove noi tribettiamo il nostro Oppo, Oppo ceca, che è la situazione standard, difficilmente Oppo beta, e noi dobbiamo sviluppare il range, quindi avremo una linea di gioco, che essendo non tribettato, generalmente, metterà spesso come frequenza, e farà size mediamente più piccola, torna a 35%, facciamogli capire, che sulla lettura di questo avversario, possiamo cambiare impostazione, grazie a cosa? Lettura di profilo, 20-10-5, fold al flop, profilo passivo-aggressivo, e poi il range, quanto hit a questo board, quindi per capire, se effettivamente chiama talmente spesso, che ci conviene fare una size grande, o chiama talmente poco spesso, che possiamo cambiare un po' le nostre linee di gioco, un sacco di concetti, ma dobbiamo farlo impazzire, il nostro amico, se no, cosa fa? Gioca e si diverte, fa 5 euro al mese, ci mette a 60 ore? Non penso. Apertura big, sempre di Alex, questo è uno spot, dove invece non abbiamo troppo motivo, di tribettare, il nostro hop è lo stesso di prima, fold a poco pre, poco post, è piuttosto passivo, ha un range forte, perché amnitti, in questo caso, invece che amare, ci permetteva di avere, Gozza, che è un giocatore deep, e Fish, Panellino, che è un giocatore deep, e Fish, l'altro giocatore, che tribetta talmente poco, che raramente ci palleggia via, un giocatore più o meno sensato, che comunque difenderà spesso da big blind, regaleremo un minimo di equity, ma è una mano facile da giocare, che se setta fa un sacco di soldi, se non setta si folda facilmente, quindi quando vinciamo, vinciamo molto di più, di tre bui di investimento, quando perdiamo, difficilmente andiamo a perdere più di tre bui, a meno che veramente non floppiamo sette, oppure ci fa colore runner runner, e allora ditelo che ci odiate tutti, allora comunque questo board, normalmente è un board buono per il raiser, perché noi abbiamo AK, AQ, attenzione che può averne anche l'oppo, che forbetta poco, e dobbiamo mettere pressione, perché il nostro avversario, generalmente non è forte quanto noi, noi alla lunga abbiamo, che lui non ha, perché avrebbe risato, ASSO-ASSO, KK, ASSO-Q, quindi noi abbiamo dei set, abbiamo delle doppie, il nostro oppo chiaramente può averne qualcuna, perché forbetta poco, ma è un board, dove onestamente vorrei bettare comunque, è chiaro che contro un range del genere, eppure passivo che folda poco, il motivo per cui non vorrei trovarmi in questa situazione, l'ho già detto, con mani di questo tipo, non abbiamo un grand che di fold equity qua, perché oppo, povere, Jack-Jack, TC-10, 99, QQ, diversi assi, ASSO-Q, ASSO-Jack, probabilmente anche ASSO-10, mani di questo tipo, quindi folderà pure, neanche troppo spesso, comunque cerchiamo, quando betta turn è così passivo, che dobbiamo foldare, qua invece chiamiamo, river è un disastro, hop-8 di river bett, stiamo foldando, spero, ok, si stiamo foldando, però un conto è bettare, seguendo la strategia del vantaggio di range, un conto è ceccare, per chiamare turn, perché mi secca l'idea di foldare, ma contro un giocatore così passivo, stiamo andando a perdere soldi, per poi, giustamente qua, ok, foldare river mi va sicuramente meglio, vediamoci l'ultima mano, credo che abbiamo visto un sacco di, interessanti informazioni, no, da dare al nostro caro amico, allora, giocatore molto abc, 17, 10, 5, foldare la tribet relativamente alto, in realtà, e un altro giocatore impegnato, il call è un po' al limite, semplicemente perché il range del nostro hop è molto forte, nel senso che apre un 10%, mi aspetto che, adesso lasciate stare le poche stats, ma mi aspetto un giocatore scarsamente posizionale, che sta pure isolando, in questo caso, quindi mi aspetto un range tipico, di carte forti, di carte belle, qualche asso, senz'altro, magari qualche asso suited in più, una cosa di questo tipo, questo è un 11%, ma una cosa così, contro i suoi assi, noi giochiamo un gran che bene, nel senso che se usciamo l'asso, siamo tipo sempre sotto, e la mano a minimo di equity, non è terribile da difendere, ma un po' una trappola, off-suite, fuori posizione, contro un raiser tight, e a rischio dominazione, quando suona questo campanello, soprattutto qui, possiamo foldare, se poi Oppo fosse estremamente bravo, a maggior ragione vogliamo foldare, comunque ok, qua invece tribettiamo, che è un po' aggra come mossa, ma dicevo da lettura, che questo tizio folda anche abbastanza, quindi non è orribile, l'importante è farlo, con gran giudizio, attenzione, che se noi tribettiamo questa mano, lo dico per il nostro amico, se noi iniziamo ad avere, tanti assi banana, nel nostro range, quindi iniziamo a tribettare, tutti gli assi deboli, se tribettiamo a su 8, magari non stiamo per forza, a tribettare a su 2, ma la maggior parte degli assi off-suite, sì, quindi mi aspetto anche tutti gli assi suited, di bluff, 115, 116 in questo caso, la nostra parte di valore, sarà decisamente inferiore, in questo caso, per esempio con un range di questo tipo, avremo un terzo di valore, due terzi di bluff, che non è detto sia la situazione, che vogliamo avere, normalmente a questi tavoli, considerando i tipi di giocatori, comunque tribettiamo, board perato, giocatore che limcolla, non è un gran board, perché è il board inglese, nel senso che c'è il jack, c'è 10, quindi ci sono diversi draw, è un payrato, però l'idea di tribettare, non mi disgusta, visto che comunque abbiamo tribettato, è vero che contro fish, non è proprio necessario, se bettiamo, bettiamo 7 in questo caso, e invece checkchiamo, check to check, 6 è una blank, non abbiamo motivo di bettare, invece bettiamo e veniamo risati, ecco attenzione all'idea, di come sviluppare la nostra strat, check check, per poi andare a bettare un turn, che non sposta niente, probabilmente era meglio bettare flop, che almeno su un board perato, mantenevamo un po' di equity, è chiaro che non è il miglior board perato, della storia, soprattutto in un contesto contro fish, ma almeno segue la nostra strategia, è migliore proprio per sistemare un po', le nostre linee di gioco, direi che abbiamo sottolineato abbastanza aspetti, quindi per il nostro amico Mario AST, è chiaro che abbiamo un approccio cash game, con poco studio alle spalle, quindi a mio avviso dovresti lavorare, su tante basi, anche quelle semplici, perché dobbiamo abituarle, alla nostra mascal memory, quindi anche un po' solo, il range e l'apertura preflop, le nostre tribet generali, proprio la situazione di base, lo sviluppo quindi preflop, un po' il gioco postflop sulle size, mi raccomando, le size e il TP che ci sta dietro, la strat generale, la strat esploitativa, ma parti con una strat generale, e poi cerca a piglio, nelle statistiche degli avversari, per entrare in una statistica esploitativa, sistema prima queste cose, che sono piccole ma molto frequenti, dopo sicuramente dovremo lavorare meglio, sui tribetati OP, sulla ribarre e l'altarna, sulle linee preflop, di 4bet eccetera, che però sono spot, che ci interessano dopo, perché anche se spostano abbastanza soldi, li spostano poche volte, adesso è importante, che tutti metti nelle condizioni, di giocare più mani, negli spot giusti, cioè quelli dove poi giocherai in futuro, così da fare esperienza su quello, e andare a fare sempre più soldi, in quelle dinamiche, poi man mano, ogni settimana, ogni quant'è insomma, inserirai qualcosa di nuovo, nel tuo stile di gioco, e andrai a ottimizzare, migliorare sempre di più, ricordate anche al vostro amico, che adesso non stiamo giocando, per i soldi, che i soldi non sono altro che, se, non so, un tornaconto di quello che abbiamo fatto, noi giochiamo per farne sempre di più, quindi per migliorare il nostro gioco, non giochiamo per oggi, giochiamo per come giocheremo tra un mese, e mettiamoci già nell'ottica, che alcune giocate, le riconosciamo nei nostri avversari deboli, perché magari non le mi 10 di stars, insomma la situazione è un po' questa, un po' patetica, non è vero, è un po' imbarazzante ovviamente, però se vediamo che i nostri avversari, fanno cose di questo tipo, probabilmente sono scarsi, perché sono avversari di questo stake, probabilmente non le vogliamo fare, non vuol dire giochiamo al contrario ovviamente, ma vuol dire cercare di essere consapevoli, dei nostri difetti, riconoscerli nel nostro avversario, e sfruttarli, comunque però, riferendomi al nostro Mario Asta, mandami email di Google, ti giro un po' di materiale, ovviamente tutto gratuitamente, e poi mi fai sapere insomma, cosa ne pensi, che dubbi, domande, incertezze hai, su questo ragazzi, io vi saluto, per il video di oggi è tutto, un saluto alla prossima, da Lord Kane, bye, bye, bye.